Il titanio è molto bello, molto intenso. Se le viene un piccolo desiderio, può tornare. È in titanio. Ma è speciale a lavorare in titanio? È molto difficile, molto molto difficile. Ah sì? Sì, perché il titanio è estremamente leggero, ma è molto duro, è molto rigido. E quindi dare il movimento del fiore è difficilissimo. E anche incastonare i brillanti è molto difficile. Quindi è un po' un'opera d'arte. In verità.